Lucia Allegra Mi colpisce tanto, non soltanto conoscere la tua attività professionale, che è la cosa più importante ovviamente, il lavoro che fai, però scoprire, prima che sei stata una giornalista di alto livello, adesso che hai, chiamiamolo quest'obby, che poi hobby a mio avviso non è, perché qui abbiamo un centinaio di quadri, mi dicevi che altri centinaio sono a casa tua, insomma quest'arte che viene fuori e che si racchiude in questa mostra, scrosci da critico, che devo dire la verità è un tema che mi sembra un po' un tema tecnico, C'è qualcosa di tecnico dietro questo tema? Sì, intanto grazie. Scrosci d'acrilico perché la pittura che faccio è soprattutto a base di colori acrilici, acrilici ritirati da tutto il mondo perché ogni marca ha una sua caratteristica. Ed è un'arte, la Puring Art, che è versata sulla tela, quindi il colore diluito non solo con acqua ma anche con di tipi particolari, balsami e anche cose strane perché ogni tanto uso anche il detersivo ad esempio, che dà effetti anche quello molto particolari, viene versata sulla tela con strumenti inusuali, non uso pennelli e manipolata appunto con l'aria di un phon, con la pressione di un palloncino, con il movimento della tela direttamente col colore sopra e riesco a dare un'idea di quello che, partendo dall'idea del colore, che è quello che mi spinge a dipingere, e poi di quello che desidero. In questi anni, stando lontana da Messina, sono andata sui ricordi, sui ricordi di Messina che mi è mancata tantissimo, anche se appunto poi ho fatto un lavoro che mi ha soddisfatto tantissimo e che quindi non mi creava problemi, ma la nostalgia per Messina, per il mare, per il cielo, per i colori della terra siciliana era grande. Quindi, partendo dal colore e da, per esempio, l'idea dello stretto, del mare, del cielo, cercavo di riprodurlo sulla tela, però non in modo letterale, quindi dando un po' di astrattismo, ma che nell'astrattismo potesse ritrovarsi l'idea. di partenza della Sicilia. Allora, tu hai fatto veramente un'ottima sintesi un po' di quello che ti vorrei pure chiedere. Allora, andiamo per ordine, adesso ci vado io per ordine. Intanto ho l'idea che sia un festival di colori, perché se andiamo a vedere i quadri, che poi man mano stanno scorrendo ovviamente nel corso di questo nostro dialogo, c'è un festival di colori. E poi sono dei colori, come dicevi poco fa, che non è che li vai a comprare nella prima bottega, cioè vengono da fuori, ecco, c'è tutto un mondo dietro queste tele. Sì, c'è tanto studio, tanta progettazione, appunto partendo dall'idea, dal colore che mi colpisce, o che mi ricordava, finché sono stata lontana da Messina, la mia città. Dalla forma che volevo dare, più o meno, letterale o meno, ce n'è qualcuno che è più aderente alla realtà. Altri che poi invece ognuno può interpretare come vuole, anche se ad ogni quadro ho dato un titolo per quello che sentivo all'inizio. Era la tua sensazione praticamente. Esatto. Poi però ognuno può vedere in ogni quadro qualcosa di diverso. Mi parlavi del phon, del palloncino, cioè, fammi capire. Sì, appunto, la manipolazione... Non c'è solo il pennello praticamente. No, assolutamente. Qualche artista che pratica la Puring Art, che poi è l'arte fluida, proprio perché il colore viene fluidificato, usa i pennelli come ritocco, come abbellimento. Io no, perché ritengo che quello che sono riuscita a creare, con la tecnica originaria del Puring, in quel modo deve rimanere. E quindi uso l'imbuto per versare i colori sulla tela, il fondo di una bottiglia, un palloncino per bambini. Sono tecniche tue o studiate da qualche parte? No, sono tecniche che per molti, soprattutto negli Stati Uniti e in Australia, molti artisti, molti sempre limitati comunque, praticano. Poi si può usare qualunque cosa, io uso anche i bastoncini con cui avvolgiamo le braciole in cucina, quindi... Sfruttila qualunque. È solo una questione di fantasia, la siringa per dolci, il giratorta, quindi qualunque cosa può andare bene, anche lo scolapasta. Ti avrebbe voglia di venire a casa tua e seguirti mentre crei una di queste opere. A proposito degli Stati Uniti e Australia, ecco, dicevi poco fa, questi colori vengono dall'estero, cioè hai un po' difficoltà. Diciamo che c'è una ricerca da parte tua per trovare i prodotti migliori per poi ovviamente lavorarci. Sì, un po' è anche studio chimica e devo dire sono un po' negata, però proprio per amore dell'arte di riuscire nel mio intento la studio anche, perché appunto alcuni prodotti sia di balsami additivi sia di smalti ad esempio creano delle reazioni in base alla fluidificazione del colore e della quantità messa. Quindi c'è anche dietro un progetto di come reagiscono fra di loro prima ancora di andare a versare sulla tela i colori in un certo ordine, in una certa posizione. La domanda è dobbico, mi immagino la risposta, ma dove trovi il tempo per fare tutto questo? Perché mi dicevi che qui ci sono centinaia di quadri, forse attrettanti sono a casa tua pronti per l'uso, per un'altra mostra, non so. Ma dove lo trovi il tempo? Anche perché ritengo di capire che per ogni quadro, oltre alla ricerca del colore e le tecniche da usare, c'è un bel po' di tempo da spendere da parte tua. Sì, certo. Io ho la fortuna, credo, di dormire solo tre ore per notte. Quindi inizialmente disegnavo, ho iniziato a disegnare nel 2008 con la bella penna, riproducendo foto di prima parenti e amici, poi avendo esautorato tutto qua, ho iniziato a fare panorami. Infatti ho vedute di Roma, attori. Allora, io penso che la vera Lucia è questa, di questi quadri. Ora, man mano li andiamo a far vedere. Però dall'altro lato, ecco, tu stai dicendo quadri classici, no? La fotografia tradotta in quadro. Ecco, se ci spostiamo e ci giriamo con la telecamera... Andiamo a vedere Mary Monroe, andiamo a vedere Roma, Vaticano, ecco, sono i disegni classici. Esatto. No, vi voglio farvi vedere pure perché mi fa piacere far capire che Lucia, ecco, non fa solo l'acrilico, ma è una, come dire, un'artista a 360 gradi da questo punto di vista. Assolutamente autodidatta comunque, quindi gli esperti potranno scusare la non precisione. Sì. Anche modesta. Anche modesta. No. Poi, appunto, ho scoperto l'arte fluida, mi sono messa a studiare e ho cominciato a provare con i quadri più piccoli. Adesso sono passata alle tele più grandi, che chiaramente implicano un grande sforzo, anche perché muovere la tela da sola col colore sopra diventa pesante. Però sono soddisfatta, per me è assolutamente un hobby, almeno al momento, visto che lavoro. Poi quando andrò in pensione... Ti dedicherai un po' di più. Sì, anche perché in questi giorni ho avuto la grande soddisfazione, il grande piacere di avere qui ospiti degli artisti messinesi, anche famosi, anche affermati, che hanno apprezzato molto i miei quadri. E questo era anche lo scopo di questa esposizione, capire se davvero vale la pena, oppure era solo un'illusione mia e dei miei amici che con la voce del cuore dicevano che gli piacevano.